Un'iniziativa promossa dalla Fondazione Cultura Democratica nell'ambito del protocollo di intesa stipulato con il Consiglio regionale della Puglia per supportare l'attività di innovazione legislativa coinvolgendo le nuove generazioni. La Regione ha testi legislativi risalenti dal 68, quindi è una normativa frammentaria, soprattutto di lungo corso. Naturalmente è necessario avere un testo lineare, sintetico, facile anche da essere consultato per gli operatori turistici. Un confronto aperto che apre una complessa attività strategica per il rilancio del turismo pugliese. Le innovazioni proverranno infatti dai giovani, dalle giovani generazioni, dai giovani imprenditori che stanno investendo sulla nostra Regione nel settore turistico. Quindi un turismo non d'assalto, cioè la volontà del testo unico è normare il turismo sotto tutti questi aspetti. L'accoglienza del turista, quindi quello delle infrastrutture, la promozione del territorio che proviene dalla valorizzazione dei prodotti agricoli e manifatturieri.